Un momento, ecco questa è quella che le dicevo, Dolly McNeil. Basil Hicks? No, mai sentito. Può darsi che lo conosca di vista, fanno tutti gli agenti pubblicitari oggi a Londra. Anche Tony Stewart fa pubblicità. Tony? Ah sì sì, quello sì che lo conosco, un balordo. Giù si fa di tutto lui, può anche fare la pubblicità finché gli va bene. No, ieri sera gli è andata male, l'abbiamo trovata davanti a casa sua con una pallottola nella nuca. No, povero Tony. Sì, sono in una situazione terribile, vorrei parlarle prima di arrendermi. Potremmo incontrarci da qualche parte, anche adesso se lei potesse. Sì, sì certo, ma che ore sono? Manca poco alle due. Dove si trova adesso, da dove telefono? Sono in un locale di Great Marlboro Street, lo Shakespeare's Head e a Soko, proprio vicino all'angolo di Carnaby Street. Scusa un momento, ho dimenticato i guanti.